Questo è uno dei miei pregi, adattarmi a un po' di ruoli, poi soprattutto quest'anno in cui l'anno passato a Vicenza abbiamo avuto un po' di difficoltà, un po' di infortuni, a cui mi sono adattato spesso come centrale a difesa 4, poi nel settore giovanile ho fatto anche difesa centrale, quindi ho fatto un po' di ruoli in difesa. E' un bel ambiente, si sta bene, si è un'aria serena, anche con la squadra si sta bene, vedo che è un bel gruppo, è sano, c'è a cuore, meglio così. Intanto noi dobbiamo pensare a queste qualità qua, nel senso a correre, lavorare, stare sul pezzo, perché in Serie A al primo errore non ti perdono, perché ci sono giocatori esperti che hanno tanta qualità, mentre in Serie B magari è il campionato un po' più lungo, si fa sentire sulla stanchezza, sulla freschezza mentale. Serie A è veramente difficile, perché minimi errori ti fanno gol. Fa piacere che mi ha chiamato il Crotone, perché poi è stata una delle squadre che mi ha voluto fortemente, quindi fa solo che piacere. Io non volevo andare in una squadra in cui magari ti mandano in prestito di qua, di là, poi c'è un problema delle liste. Il Crotone invece mi ha detto guarda noi ti vogliamo, mi hanno fatto un triennale di contratto, vuol dire che c'è tanta fiducia in me, a me fa solo che piacere e spero di ripagarli. Si sta preparando bene, siamo concentrati, ancora è lunga all'inizio del campionato, stiamo lavorando bene, adesso il Mista ci sta mettendo bene in campo, ci sta facendo lavorare bene e ci prepariamo con tanto sacrificio, con tanta testa e concentrazione.